vediamo invece nel resto della mattinata due cose uno è come si trova lavoro tecnicamente due perché diventa fondamentale essere visibili su google e quindi tre come si fa a essere visibili su google poi tanto domani avete una giornata intera di focalizzazione sull'uso specifico dei più importanti social network e quindi avrete una marea di input di cose fantastiche da fare online però intanto oggi vediamo un po' la premessa di base allora come si trova lavoro o come si trovano clienti è sostanzialmente uguale ho inventato un modellino che c'è nelle slide ma adesso scopre qua ne posso mettere una se no devo fare avanti e indietro ho usato quella successiva 4R io ce l'ho un po' debole prima R ricerca io me li vado a cercare vado a cercare lavoro vado a cercare clienti chiaramente per cercare lavoro per cercare clienti devo trovare aziende devo trovare nomi e cognomi una volta si usavano le pagine gialle ancora si usano probabilmente le pagine gialle se cerchi un lavoro come barista perché stanno là i bar o se cerchi un lavoro come ciabattino i calzolai stanno sulle pagine gialle magari online ma stanno sulle pagine gialle una volta vendevano i database vendevano gli indirizziari vendevano le mail in list li vendano ancora però diciamo che la strategia di base è andare a cercare si andava in fiera quanti di noi sono andati in fiera per conoscere gli espositori le aziende i prodotti quindi poi oggi le fiere sono diventate qualcosa di un po' più complicato ma insomma la fiera nasceva così nasceva per questo quindi in realtà prima strategia per trovare lavoro o per trovare clienti è andarsi lì a cercare dove io vado a cercare nome e cognomi indirizzo telefono mail in modo tale che posso telefonargli scrivergli mandargli una mail se trovo l'indirizzo lo aspetto sotto casa forse no però insomma cerco dei dati delle cose interessanti ovviamente i motori di ricerca stanno diventando sempre più uno strumento importante e sta diventando importante anche l'uso dei social perché magari la persona con cui vorrei entrare in relazione ha un profilo su facebook e scopre una serie di informazioni sulla sua vita sulle sue passioni sui suoi interessi seconda strategia possibile quindi uno ricerca due relazione mi vado a costruire delle relazioni con delle persone che possono diventare miei clienti o che possono darmi lavoro come si fa a costruire relazioni per esempio vado a un corso di formazione incontro tanta gente e hai visto mai da cosa nasce cosa comincio a conoscere delle persone la maggior parte delle attività sociali sono svolte a questo a creare delle occasioni di scambio di conoscenze anche per fini lavorativi la maggior parte degli affari si fa a pranzo o a cena ritorna quindi la maggior parte degli affari si fa davanti a un piatto o si fa nei circoli sportivi le relazioni si curano ed è fondamentale che ognuno di noi impari a gestire e a sviluppare le proprie relazioni anzi oggi fare rete costruirsi il proprio network dove network è rete ma fa più chic detto network o social network ma è network sociale quindi le reti di relazioni è vitale ognuno di noi è le relazioni che ha ognuno di noi è le relazioni che può sviluppare dove ovviamente mentre prima essere ammessi alla cena sociale del circolo del club diventava complicato comunque costava una quota annua comunque te lo rivesti bene insomma c'è c'è una serie di dove imparare a usare le forchette giuste quando ti apparecchiavano con 800 posate oggi è tutto più facile perché esistono i soci che ci sono delle possibilità di conoscenza esistono dei corsi online esistono tante altre cose però la strategia di relazione è una relazione con le persone che mi interessano quindi il primo problema è chi mi interessa a me tutti quelli che possono diventare partner di lavoro e quindi chi sono di partner di lavoro e che tipo di lavoro mi interessa devo fare delle scelte che è un problema che si pone non tanto su facebook dove quasi chiunque mi chiede l'amicizia io l'accetto perché tutto sommato chi se ne frega ma già su linkedin può diventare un problema perché io mi ritrovo ad avere una rete di estranei prima strategia su linkedin accetto tutto o accetto solo chi conosco è chiaro che se sono giovane ho appena iniziato e sto affacciandomi al mondo del lavoro e accetto solo chi conosco conosco nessuno quindi non crescerò mai è anche vero che se non chiedo il collegamento su linkedin non funziona è anche vero che se chiedo con la formula standard vorrei aggiungere alla mia rete professionale grazie ai linkedin e che ho costruito una relazione non serve a niente una cosa del genere quindi la strategia di relazione è una strategia bellissima la strategia che oggi offre un sacco di agganci e di possibilità va studiata bene va migliorata va affiancata da una serie di attività dove il presupposto fondamentale è se io conosco qualcuno in rete devo essere interessato motivato a conoscerlo anche di persona perché se rimane solo una conoscenza online a meno che non giochiamo a Farmville e lui mi passa le vacche che mi servono per finire la capanna ci faccio poco queste amicizie online avere 3000 amici su facebook mi rende molto popolare al bar ma sostanzialmente non serve a nulla se non li conosco realmente e se non posso chiedergli un qualcosa dove chiaramente non gli vado neanche dei soldi nel lavoro ma magari se chiedo un parere su un'azienda perché leggo dal suo profilo che lui ha lavorato e io ho un colloquio e gli chiedo un parere sull'azienda come esperienza come dipendente me la dà a questo servono le relazioni d'altra parte chi è che di voi è sposato pochi non c'è non c'è da vantasse ma neanche da vergognasse e ok allora quando è successo il fattaccio non l'avete fatto di nascosto l'avete fatto più o meno pubblicamente quindi qualcuno ci è venuto al matrimonio che avete fatto per decidere chi veniva al matrimonio avete costruito più o meno una lista lasciate la lista dei regali quella serve per i genitori per farli risparmiare a te hai dovuto decidere no? a chi glielo dicevi a chi li invitavi a chi veniva in chiesa o in municipio a chi veniva al pranzo a chi veniva al ballo a chi non gli si dice niente o a chi gli si dice solo a cose compiute ok? più o meno sono queste le opzioni no? fantastico dovete prepararvi la vostra lista di nozze delle relazioni professionali dove ovviamente cambia l'oggetto ma sostanzialmente il concetto è dovete classificare taggare si chiama tecnicamente le relazioni che avete su LinkedIn LinkedIn vi consente di taggare con dei tag standard o di crearvi i vostri tag in realtà dovete classificare le relazioni che avete e decidere dove le dovete andare a sviluppare questo è la strategia della relazione è una strategia fantastica però va studiata e portata avanti sui social si porta avanti una meraviglia chiaramente avere fare delle scelte significa anche capire questa persona che mi sta chiedendo il collegamento va bene o non va bene a chi posso chiedere il collegamento esercizio autottono le dieci imprese con cui vorreste lavorare ce l'avete non ce l'avete pensate scrivetele le dieci imprese con cui non v'ho detto se uno vuole lavorare con la ferramenta sotto casa fantastico va benissimo risolto basta io facchietto metti che funziona ha finito dieci imprese con cui vorreste lavorare chiaramente il suo caso il mio caso per esempio io non sono stato in grado a fare questo esercizio io non volevo lavorare che imprese quindi io l'ho tradotto dieci imprese che vorrei come clienti ho dovuto modificare perché io non ce volevo lavorare fate voi dieci imprese con cui vorreste lavorare non c'è limite vorrei lavorare con Amazon faccio le consegne io può essere un'idea ok hai visto mai poi ci ritorniamo sui dieci imprese nel pomeriggio strategia di relazione significa decidere chi a voi interessa le persone diciamo io sto strumentalizzando le relazioni così va la vita perché quando invitate la gente a nozze e non la invitate chi ha invitato Zizio Peppino Zizio no Carmelina no non state strumentalizzando le relazioni quella guarda che te fa un regalo buono invitala portaglielo tu in persona questa è la storia di tutte le famiglie non stai strumentalizzando Zizio Peppino e Zizio Carmelina ha già campato va bene così ok quindi terza strategia in Italia c'è un uso improprio o perlomeno scorretto che è la strategia della raccomandazione che invece è quella che poi funziona alla grande dove la raccomandazione non è no Zizio Peppino mi farei il posto al comune e non faccio manco il corso se ci riesci bene bravo fantastico puoi anche alzare andartene perché è finito il corso che te serve il discorso è raccomandazione quanti di noi hanno segnalato un ristorante perché si mangia bene o perché si mangia bene quanti di noi hanno segnalato un cinema un film un libro viviamo di segnalazioni viviamo di raccomandazioni chiaramente c'è una persona di cui ci fidiamo di più persone di cui ci fidiamo di meno se andiamo sui gusti gusto musicale gusto culinario gusto artistico però se io cerco un cardiologo a chi chiedo? a Zizio Peppino che so che stava poco bene col cuore come è andata? non vado sulle pagine gialle a cercare un cardiologo non vado su un social network a cercare un cardiologo magari anche si non lo so però è più facile che chieda a qualcuno che ha avuto già un'esperienza e lui non mi sta facendo una raccomandazione di un professionista la maggior parte delle imprese che partono stabiliscono come strategia di promozione il passaparola che è come fosse una malattia cioè che vuol dire passaparola? come lo sviluppo il passaparola? come lo implemento la strategia di passaparola? è una strategia bellissima che ha bisogno di un studio e di strumenti per potersi realizzare non è che la gente la mattina si sveglia e pensa a parlare bene di te certo se la sera prima se ne andate a vedere un bidone al cinema se avete mangiato in un posto ma vanno levato 100 euro se vanno tamponato e non sapete chi è stato cioè il giorno dopo non parlate di altro perché il passaparola negativo è fondamentale cioè è un modo anche per scaricarsi ma il passaparola positivo no il segnalare in modo positivo no allora ovviamente la rete è uno strumento straordinario se c'è il network sono uno strumento straordinario per segnalarsi farsi segnalare i like che vi mettono sono dei like che mettono alla qualità di quello che stai dicendo è una segnalazione è un gradimento allora perché non chiedete le segnalazioni su Linkedin? per esempio Linkedin è un social network che vive di segnalazioni esiste proprio chiedi segnalazione c'è proprio una voce clicchi e chiedi la segnalazione non la puoi chiedere a chiunque la devi chiedere a qualcuno che è collegato ad una delle tue esperienze precedenti e bisogna chiederle le segnalazioni come funziona e poi tanto ci torniamo tra pochissimo su Linkedin? io chiedo la segnalazione e devo dire a chi la sto chiedendo su quale esperienza comune quindi un collega un datore di lavoro una scuola di formazione l'università stessa quindi la richiesta è a una persona la devo mandare a una persona che ho nella rete di contatti a lui gli arriva una richiesta formale vorrei chiederti una segnalazione personalizzatela sto implementando sto migliorando il mio profilo Linkedin mi farebbe enormemente piacere o mi farebbe enormemente piacere che lei voi noi usate quello che dovete usare mi segnalasse per e gli dice qual è l'occasione in cui avete lavorato insieme che cosa vuoi che parla di che cosa te ricordi di me sai che esisto a questo punto la persona a cui voi chiedete la segnalazione arriva nella sua mail personale nella sua mail sul Linkedin la vostra richiesta di personalazione la vostra richiesta di segnalazione a questo punto lui può decidere che la cancella e vi ignora e lo scoprite perché a distanza di tempo nessuno vi ha risposto tra l'altro Linkedin tiene memoria delle segnalazioni in evase per cui tu puoi anche rinoltrarla molti non te la danno non perché sono vestito perché non ti vogliono segnalare perché non sanno come funziona quindi se voi scrivete se hai problemi fammi sapere poi dice gliela spiegare perché alcuni che sono più onesti dicono ma che c'è devo scrivere fantastico andatevi a vedere in giro su Linkedin quindi navigate Linkedin e trovate delle segnalazioni che vi piacciono che rispecchiano uno stile che per voi è interessante la segnalazione non è Mario è un personaggio fantastico unico mi pento di non averlo mai conosciuto prima non è questa la segnalazione la segnalazione è una serie di qualità che quella persona ha riscontrato nel tuo operato durante la vostra collaborazione a questo punto lui risponde alla tua segnalazione e a te arriva una mail dove c'è scritto Mario è una persona altamente professionale con cui ho sviluppato un rapporto veramente proficuo e soddisfacente punto a questo punto tu puoi decidere no questa cosa gliela rimando a lui e dico no guarda qui sistema questo non mi piace se puoi ovviamente dipende dal rapporto dallo stile dalle relazioni che avete con queste persone altrimenti tu spingi un bottone e lui pubblica la sua mail che è soltanto la segnalazione esattamente su quell'esperienza per cui voi l'avete chiesta quindi lui si sistema all'interno del vostro profilo esattamente dove va ci siamo strategia di raccomandazione strategia di segnalazione cioè impossibile che uno lavora che non abbia segnalazioni da poter raccogliere se non le chiedi non te le danno e questa è una strategia che dovete cominciare a pensare a vita cioè dobbiamo chiedere le segnalazioni delle nostre esperienze professionali dobbiamo chiedere ovviamente online è molto più facile perché è immediato chiedere i feedback e chiedere le testimonianze allora chiaramente se è negativa ok se è l'unica non la metto se ce ne ho 5 positive metto anche quella negativa poi decide no se lui il feedback su LinkedIn se lui me la manda negativa grazie non la pubblico c'è scritto Joe Condor certo però a quel punto pensa a che relazione c'hai tu qua la persona normalmente cosa succede io la chiedo a lui lui la chiede a me Camarilla italiana non funziona cioè o siamo due mostri a scriverla in maniera altamente professionale che si capisce che effettivamente è stato un rapporto paritario o se no non funziona io sconsiglio di farlo quindi se io la chiedo a lui lui non la può chiedere a me la chiedere a un'altra quindi non fate la reciprocità di segnalazione LinkedIn da meno di un anno ha introdotto il sistema dell'endorsement dove di fronte a delle capacità che tu dichiari tu dichiari delle capacità project manager team building quelle che abbiamo parlato prima non ci stanno ovviamente sono capacità manageriali tu segnali le persone che sono collegate con te possono andare a mettere un più quindi possono dire sì lui ce l'ha si chiama endorsement quindi è un sistema molto semplice senza bisogno di dove chiedere rispondere e via dicendo per aumentare diciamo la interazione su LinkedIn allora qui invece ha senso che io endorso lui e lui endorsa me il problema qual è? che il sistema mi fa fare fino a 20 qualità professionali non mi puoi mettere il più su 2 e 20 perché cioè non ha senso allora se lo metti su 2 e 3 ha senso e io ricambio su 2 e 3 come funziona? se voi lo mandate a qualcuno quel qualcuno si sentirà a meno che proprio non sa chi siete obbligato a rispondervi e quindi man mano aumentano gli endorsement se lo fate fra di voi 9 per dire già ce ne avete 9 a testa farà sulla figura in realtà tu hai la piccola icona del profilo delle persone ma è talmente piccola che non le riconosci se ci passi sopra c'è scritto chi è e puoi andare sul profilo quello che conta perché tanto nessuno legge è il colpo d'occhio se cominci a avere 9 a testa 9-10 quelle che sono non dimostri nulla dimostri che stai a usare LinkedIn il che già è qualcosa ok? strategia di raccomandazione è fondamentale chiedere i feedback ai nostri clienti è fondamentale chiedere i feedback ai nostri da loro fondamentale a me sono capitate diverse consulenze in questi ultimi due anni di scuole che dicevano che facciamo a trovare più allievi andiamo a prendere tutti quelli precedenti facciamo le videotestimonianze facciamo gli iscriviti cioè sarà qualcuno che sarà stato contento di questi corsi se pubblichi se voi pensate il TripAdvisor lo usiamo tutti per andare in vacanza è basato sul sistema delle recensioni false non sempre per dire poi è chiaro devi sempre vedere chi è che la fa va a media ok però intanto se io mi metto 5-6-10 segnalazioni qualcosa vorrà dire no? poi è chiaro che se mi segnalano appunto che sono una persona affidabile precisa e rispettosa c'ho il colloquio o c'ho l'appuntamento arrivo con due ore di ritardo e finito la fine dei giochi è chiaro quarta strategia strategia di reputazione che è quella più difficile cioè quella che ci vuole tempo divento talmente conosciuto divento talmente visibile divento talmente interessante che mi cercano loro anche questa è una strategia che va perseguita nel tempo abbiamo detto prima che sono esperto chi è che dice che uno è esperto? gli altri dicono che sei esperto che cosa ti serve per farti dire dagli altri che sei esperto? le competenze che hai dovrebbero essere certificati se fanno il concorso per diventare professore associato all'università di legge fantastico se no? se voi cercate su google marketing manager o marketing expert ne trovate migliaia se cercate lawyer attorno come volete avvocati se cercate social media expert dieci volte allora in alcuni ambiti le persone si autobrogramano esperti primo dato rifatto vero non vero qualcuno c'è campo qualcuno no qualcuno sta bene qualcuno no esiste un'autocertificazione dell'esperienza o dell'expertise prendiamone atto se tu sei un mostro a fare dolci chi te li dà i titoli? io l'altro giorno stavo con una mamma che fa anche la consulente ma in realtà fa la mamma e chiese come appunto si noia nel fare la mamma fa torte solo che fa delle torte con delle di tali che è qualcosa di spettacolare chi chi la certifica? chi gli dice che quella è? la certifica è il fatto che ha 150 foto su Instagram e una marea di gente che la segue per prendere ispirazioni i social network stanno cambiando i parametri per definire gli esperti gli esperti allora tanti titoli li acquisisci con le pubblicazioni ci siamo? io potrei farvi citazioni infinite di persone che hanno pubblicato degli ebook e sono diventati oggi esperti dei temi che trattano io stesso sto qui per un blog sostanzialmente ho realizzato contenuti in parte originali su un tema allora se scrivi un ebook ebook funziona scritto bene interessante continui nel tempo puoi diventare un esperto che cosa serve per scrivere un ebook? imparare a scrivere e quello uno lo può imparare se sono anche corsi di scrittura e poi l'ebook si fa online che serve? ci sono una maria di case editrici digitali c'è che dice ma io voglio fare tutto da solo 100 euro e ti compri il codice ISBN che è quello che fa il libro cioè il codice che stabilisce che tu sei autore 100 euro e ti metti il codice ISBN nel tuo libro e a tutti gli effetti stato compreso concorsi compreso un libro certo se pubblica Mondatori è una cosa se pubblica te no però è un libro è talmente un libro che è riconosciuto nei concorsi che ti vieta di fare di quello stavo parlando con la mamma un libro di ricette e di decorazioni online fai quello se sei un'esperta perché l'idea è fare i corsi di decorazione ok allora oggi il mondo in questo è cambiato cioè puoi sviluppare una strategia di relazione senza bisogno che hai certo se fai il medico dei titoli per forza è evidente però in tanti mestieri nuovi i titoli non esistono non ci sono te li devi inventare allora siccome l'esperto è colui che è riconosciuto come tale online puoi nel tempo costruirti una credibilità tale per cui sei reputato come esperto allora una delle cose fra l'altro rivoluzionari dei mestieri nuovi di oggi è che abbiamo detto prima oggi online io posso condividere creare modificare contenuti e informazioni ovviamente uno dei mestieri nuovi che è nato in questi ultimi anni è il curatore di contenuti cioè uno che cura i contenuti altrui d'altra parte se vai su google oggi trovi una serie di informazioni non trovi le migliori informazioni trovi quelli che sanno usare google e quindi riescono ad essere molto visibili sul social ci siamo? però poi quali sono i migliori articoli per un commercialista? quali sono i migliori articoli per la cura dei gerani su un balcone? chiaramente devo andarli a cercare allora oggi e come i contenuti su internet si stanno diffondendo sempre di più comincia a diventare complicato trovare i contenuti allora oggi è nato un nuovo mestiere che è il curatore di contenuti cioè uno che si specializza scegliendo un tema un argomento e su quello va a caccia di contenuti interessanti li raccoglie in qualche modo e li condivide se questi articoli sono realmente interessanti nel tempo le persone e ti fai conoscere le persone sono portate a credere che ovviamente tu sei una fonte importante perché gli dai il meglio su quello che loro vogliono essere aggiornati e nessuno di noi ha il tempo di stare le ore a cercare su google il curatore di contenuti oggi è diventato un nuovo mestiere io ho un mio collega napoletano simpaticissimo che non ha mai che sta sui social da sempre da quando sono nati dei primi a capire le potenzialità però non ha mai scritto un blog non ha mai scritto articoli che gli piace cioè non era proprio indispensabile lui aggiorna status scrive cose mette collegamenti interessanti ma non scrivere cose sue poi è nata questa cosa della cura dei contenuti ci si è tuffato e quindi ha cominciato a raccogliere le migliori fonti e articoli su come si curano i contenuti quindi ha cominciato a fare il curatore dei contenuti della cura dei contenuti che sembra lo stimolo ma è bellissimo ha partecipato a una gara europea ed è il secondo consulente europeo sulla cura dei contenuti e oggi tiene lezioni su come si curano i contenuti non ha mai scritto una ricca sua è un mondo nuovo ora non sto dicendo che ovviamente funziona per tutti però esistono tanti modi nuovi per in qualche modo trovare la propria strada e qualificarsi come esperto vanno studiati vanno coltivati vanno sperimentati la strategia di reputazione è una strategia interessante quindi ripeto quattro strategie di base ricerca relazione raccomandazione e reputazione ognuna ha strumenti specifici ha modalità diverse chiaramente non sono perseguibili tutte insieme devo fare delle scelte magari questi sei mesi lavoro più sulle relazioni il prossimo lavoro più sulle raccomandazioni e via dicendo abbiamo detto comunque Google è centrale per tutti perché è centrale per tutti perché la prima cosa che uno fa quando incontra una persona va a vedere su Google chi è voi lo fate? sì ogni tanto ricapita insomma di andare a vedere Google chi lavora sì chi lavora lo fa fondamentalmente sempre ma vi siete mai cercati voi? avete mai fatto un po' di eco surfing? chi esce? bello? brutto? esce il tuo omonimo? c'è chi ha omonimi? c'è chi ha anonimi? c'è chi esce con le foto di quando faceva il calcetto da ragazzino c'è chi non esce per niente c'è chi esce e c'è scritto professionista delle risorse umane e fa il selezionatore fantastico allora normalmente abbiamo quattro possibilità appunto non esco esco perfettamente escono 8000 omonimi ma non sono io esco con le cose peggiori che ho fatto dobbiamo imparare a usare google e dobbiamo entrare nella logica di controllare quello che esce su google di noi o dei miei omonimi ma se io mi chiamo Mario Rossi capace che c'è un Mario Rossi che taglia la strada Mario Rossi che piene molto Mario Rossi che insulta l'arbitro cioè può essere che c'è un Mario allora chi mi conosce lo sa che non sono io ma chi non mi conosce e sente il mio nome magari mi associa a quelli ideali Mario Rossi quindi è bene sapere che cosa fa Mario Rossi tutti i giorni quindi attivate un google alert che è uno dei servizi gratuiti che vi offre google scusa ma adesso è partito la tosse andate su google alert digitate tra virgolette il vostro nome e cognome e selezionate ovviamente il sistema con cui vi notifichi i risultati lui vi darà tutti i giorni quando esce qualcosa che comprende il vostro nome così almeno sapete se qualcuno per caso parla male di voi o c'è qualche omonimo che combina qualche nefandezza ci siamo dopo di che devo farmi riconoscere da google quindi se avete fatto un po' di ecosurfing ed escono poche cose su di voi allora l'ideale a google vi dà 10 risultati no? a pagina 10 risultati allora l'ideale sarebbe avere 10 risultati perché quello vuol dire no? quando uno cerca te ammazzati chi c'era 10 risultati considera che la maggior parte dei monitor sono 14 pollici quindi io dovrei stare almeno nei primi 5 perché dopo tocca scrollare mica tutti ce la fanno a scrollare è faticoso quindi devo stare nei primi 5 però se vado su sull'iPad devo stare nei primi 3 se vado su l'iPhone devo essere il primo fate controllate come si fa a fare questo? ovviamente ingannando google cioè ingannando creando delle occasioni per cui google associa voi ovviamente questo si può fare solo in un modo se voi cominciate a diventare l'incubo di google cioè cominciate ad essere visibile su più piattaforme domani ve le studiate quelle classiche io ve ne do alcune che invece non sono classiche domani studierete google plus la google plus è fondamentale vi dovete far riconoscere la google la google plus è una scommessa comune siamo 200 milioni 250 milioni di persone che stanno su google plus fanno cose non sanno a che servono e sperano che prima o poi portino da qualche parte nessuno lo sa dove andranno però è chiaro che se ti vuoi far riconoscere da google almeno registrati su google google plus è il profilo tuo su google quindi ti dai il nome il cognome le informazioni i link che hai anzi lui ti chiede cose che hai fatto fantastiche dove ti chiede un sacco di cose che non servono non molto però insomma registrati su google plus per registrarsi su google plus apri un account su gmail anche perché se no l'alert hai problemi a farlo google offre una marea di servizi fra l'altro youtube è di google quindi bisogna starci ok poi domani tanto vedrete come si fa siccome sui social sono fondamentali le foto dovete usare le foto le foto vostre allora io non so domani la collega che consiglio vi darà io vi do il consiglio del mio modo di vedere le cose no cioè io a lui lo trovo su tutti i social con la stessa foto perché così io riconosco che è Dino vi spiego è chiaro che se io con lui sono cresciuto insieme che mi frega può mettere 8000 foto lo riconosco sempre ma online non è così quindi dovete usare possibilmente la stessa foto che non sia una foto di vent'anni fa che non sia la foto della prima comunione che non sia la foto di quando vi siete sposati che non sia una foto con altre persone ma tantissimo Facebook mette la coppia nel profilo personale bellissimo non lo fate per favore stiamo parlando di lavoro cioè non è che va su una coppia a meno che quindi o la foto col pupo o la foto col cane o l'inus o il candy candy o chi per lui foto di profilo foto personale di viso io devo riconoscere il viso non deve essere una foto spettacolare ma una foto in cui il viso riconosce possibilmente recente non vi vestite in giacca e cravatta se poi girate con la maglietta perché se vede che vi stanno a piccà si vede la sofferenza nel viso della cravatta che avete messo si vede che il nodo è fatto male non ci crede si vede se non la usi non la mettere non serve non vi mettete il tagliere se girate con le magliette ci siamo? i tacchi li puoi mettere tanto nella foto non si vede si fa questo ok? quindi Google Plus è fondamentale il secondo fondamentale è LinkedIn che è il social network professionale per eccellenza se non ci stai è come se non esisti esagero come ci devi stare con una foto assolutamente professionale fatela fare se non sei capace a farla con l'altro scatto va messa una foto nome e cognome ma controlla se ci sono omonimi se ci sono omonimi hai un secondo nome hai un M puntato hai un... boh trova un modo per differenziarti poi su LinkedIn hai sotto 160 caratteri in cui puoi definire no? responsabile acquisti della no? Mater Pilar S.P.A. fantastico se hai un ruolo aziendale metti quello e hai risolto e se non ce l'hai? qui i 160 caratteri sono parole chiavi sono le parole chiavi con cui chi cerca su LinkedIn potrebbe trovare a voi vanno assolutamente messe e vanno sperimentate trovate le vostre parole chiavi se io metto professionista della formazione fantastico ma troppo vago formazione aziendale fantastico ancora vago vai oltre c'è 160 caratteri non c'è una regola trovate le vostre parole chiavi compilate quel profilo in 160 caratteri possibilmente in italiano ovviamente alcuni termini sono inglesi usate l'inglese non deve essere una frase di senso compiuto deve essere un qualcosa che sono parole chiavi è fondamentale per essere trovati dai motori di ricerca quando scendi sul profilo poi a un certo punto hai di qua username se spingi clicchi puoi personalizzare il tuo indirizzo quindi puoi crearti il tuo indirizzo con il tuo nome e cognome senza i numeri va fatto poi ci sono informazioni di contatto nell'informazione di contatto mettete almeno una mail che non sia ghiocciolino du 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 tra 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 e se avete skype mettete l'account di skype se non avete skype fatevi skype fine dopodiché ci metterete uno dei tre social che vi dico io adesso ora di fare tanto per ok quindi informazioni di contatto vanno messe dopodiché c'è riepilogo quasi nessuno lo fa il riepilogo è una biografia 10 righe di 140 caratteri ogni frase massima dove raccontate sostanzialmente perché è un affare averci a che fare con voi ci siamo lo so che non è facile infatti quello che vi suggerisco è provateci a seguire adesso vado avanti con il resto della spesa dopodiché ovviamente avete un migliore di dubbi mi mandate il link dice mi c'è dai un'occhiata vi rispondo anche se non vi rispondo voglio dire che proprio non mi è piaciuto allora non ho il coraggio di dirvelo no a parte gli scherzi è riepilogo va attivato 10-15 righe non di fila spaziate non le legge nessuno se no tra l'altro Linkedin si è comprata da pochi mesi Slideshare Slideshare.net è un social network di presentazioni e di slide sostanzialmente dei migliori consulenti e manager del mondo quindi chiaramente in alcuni ambiti la trovate delle cose fantastiche uno dei compiti che avrete nel pomeriggio per le vacanze cioè da domani è quello di farvi una presentazione visiva quindi poi la presentazione visiva me la mandate la sistemiamo e la pubblicate su Slideshare da Slideshare la collegate al vostro riepilogo in Italia saranno ancora in 10-15 i miei ex allievi che fanno presentazioni visive non le fa nessuno dice ma funziona? non lo so male che vada non serve a niente ma ammetti che funziona non ci sono percentuali da conoscere quindi no ed è un modo completamente nuovo di presentarsi gli americani ci stanno pontificando danni su queste cose ed è proprio un mondo nuovo a cui approcciare quindi il riepilogo serve 10 liche spaziate dopodiché ci collegate la vostra presentazione visiva che su LinkedIn uno clicca e la va a vedere lo vediamo nel pomeriggio come si fa la presentazione visiva per dare la completezza dell'informazione quindi nome foto qualifiche in 160 caratteri poi lui ti dà di default nello schema classico attuale occupazione precedente occupazione informazione poi ti dà username informazioni di contatto riepilogo dopodiché esperienze professionali esperienze professionali non è un curriculum quindi mettete quelle che volete mettete quelle che reputate interessanti per chi vi sta leggendo nelle esperienze professionali LinkedIn ha aggiunto da qualche mese la possibilità di inserire dei link quindi sostanzialmente di poter visualizzare delle immagini dei video delle presentazioni delle foto che riguardano la vostra esperienza professionale che state elencando quindi la possibilità di rendere il profilo un po' più Facebook un po' più visivamente attraente allora delle vostre esperienze che state raccontando c'è la possibilità di far vedere qualcosa che sta in rete? ho fatto il barman fantastico facevo i cocktail bellissimo ma potete mettere una bella foto di uno sprite che non so come si chiama dei spritz di un altro spritz un video una foto ce l'hai tua bene non ce l'hai metti in altro ho fatto il barista questo chi legge legge ho fatto il barista e si vede un aperitivo che ti fa venire proprio è un altro modo di raccontarsi non è il tuo il martini non è il tuo il cocktail però hai la possibilità di farlo fallo ho fatto il giardiniere ma mettemi una sieve bella pulita ma non è la mia chi se ne frega io però così le facevo dice no ma non l'ho mai fatta però se me l'avessero fatta non è una dichiarazione giurata è un profilo social su facebook quante volte bleffate qui stiamo dicendo miglioriamo il passato tanto è la roba passata allora c'è la possibilità su linkedin di inserire uno due tre quattro link chiaramente se quei link e i link sono visivi cioè lui ti fa vedere a quale pagina stai linkando quindi se c'è instagram e c'è delle foto clicchi alla tua foto e appare quella poi se uno clicca va direttamente su instagram se uno clicca va su pagina dove sta la foto dell'aperitivo ma non lo fa nessuno quindi tranquilli e poi se lo fa va a vedere una pagina dell'aperitivo non è che lo mandate su cose sconvenienti ci siamo e questo non lo fa nessuno cioè il curriculum su linkedin visualizzato il profilo su linkedin visualizzato in questo modo non lo fa nessuno ancora perché nessuno ha capito che si può fare nessuno ha capito come si può fare ma è tutto un altro modo di raccontare cioè il curriculum formato europeo è la negazione dell'individuo il profilo su linkedin invece è la valorizzazione dell'individuo è tutto un altro modo di raccontarsi ecco che sul biglietto della visita se mi fai un profilo così ma lo metto bello grosso it linkedin.com slash mariorossi perché va a vedere chissà da paura no? e viene venite fuori altre persone in questo modo poi è chiaro ci ho fatto la tesi di laurea benissimo chi ha letta? nessuno mettici la foto della tesi di laurea come il link quando dica di che sei laureato la copertina la slide un'immagine che ha usato aveva usato una foto un'immagine uno schema un modello ma il modello è quello dei cosa? dei Samuelson e chi se ne frega che ne sanno vedono una cosa che forse muove colorata e carina poi Samuelson c'è il premio Nobel per l'economia non è che hai usato una cosa del zio Peppino ci siamo? chiedete le segnalazioni per ogni esperienza sull'esperienza che segnate chiaramente segnate che cosa c'è di importante in quell'esperienza per cui la segnalate è un profilo non dovete dichiarare tutto mettete quello che no perché è chiaro che se uno sta agli inizi e c'ha poco e comincia pure a togliere finisce e non ci rimane niente tutte le volte che avete lavorato al nero non c'è bisogno che mettete il lavoro al nero evaso IMS grosso scrivete collaborato basta non è una dichiarazione dei redditi questo vale anche per il curriculum normale ho fatto il parcheggiatore abusivo non c'è bisogno di scrivere che era abusivo però poi scrivo ho fatto il parcheggiatore e sono ancora piede libero che oggi vuol dire che sei sveglio sei sveglio ci siamo Linkedin in questo modo è tutta un'altra cosa dopodichè Linkedin però ti consente anche di iscriverti a dei gruppi cercate all'interno delle parole chiave lui vi suggerisce voi nei 160 caratteri scrivete alcune cose lui vi suggerisce dei gruppi che per definizione rispetto al percorso di studi rispetto alle esperienze lavorative rispetto a quei 160 caratteri vi dà dei gruppi ex allievi professioni ci sono una marea di gruppi ma che serve scrivere i sei gruppi Linkedin serve a fare social networking serve a crearsi relazioni serve a farsi conoscere serve a farsi vedere allora è chiaro che se io mi iscrivo a un gruppo mi iscrivo a un gruppo perché mi devo far conoscere come faccio a farmi conoscere una serie di idee chiedo qualcosa io vorrei fare l'ingegnere nucleare ma qua hanno chiuso le centrali idee può essere che qualcuno ti risponde perché c'hanno bisogno può essere di no chiedere cose in genere in rete se chiedi ti rispondono c'è qualcuno che sta discutendo su qualcosa nel gruppo c'è gente che discute bene esprimi il tuo parere fai una domanda segnala una risorsa gruppo innovatori sto leggendo questo libro mi ha stimolato questo tipo di riflessione che ne pensate e la gente dice chi è sto pazzo che dice questa cosa andiamo a vedere vedi il profilo qualcuno ti dira bravo sono contento bello sto libro conversi questo è il mondo social serve a creare relazioni e a conversare i gruppi servono a questo io mi sono fatto conoscere su LinkedIn attraverso i gruppi quando ho aperto il mio blog dedicato al marketing personale gli articoli più di peso più miei li ho condivisi all'interno dei gruppi e questo mi ha portato moltissima visibilità ci siamo? a me non piace chiedere come tipo di stile di vita come persona quindi sono una persona che è incapace di chiedere poi con gli anni ho imparato però insomma non mi piace io su LinkedIn sto a 990 e spicci fra poco scattano i mille contatti bello non si vince niente però c'erano più di mille quasi mille ma non arrivano a 10 quelli che ho chiesto io per dire il mio atteggiamento è questo io non li chiedo arrivano fantastico perché mi arrivano? perché mi trovano? perché non è che mi arrivano perché chi so nessuno perché come mi trovano? mi trovano perché partecipo alla vita dei gruppi mi trovano perché aggiorno il profilo su LinkedIn allora LinkedIn è fatto di aggiornamenti di status esattamente come Facebook quindi se non lo aggiornate non vi trovano se lo aggiornate vi trovano quindi dovete stabilire una strategia di contenuti che vi porta ad aggiornare il profilo su LinkedIn perché se non lo aggiornate anche se lo fate abbastanza ficonzio come vi sto dicendo di farlo quindi con le parole chiavi la foto giusta username personalizzato informazioni di contatto riepilogo dieci righe presentazione visiva immagini foto e video link strutturati endorsement fatti bene segnalazioni partecipazione ai gruppi poi bisogna però metterci i contenuti cioè tutto il social network vive di contenuti quindi dovete scegliere dei contenuti su LinkedIn ovviamente non posso metterci la foto del pupo l'ultimo col de totti che è bello però forse su LinkedIn non mi pare il caso però se faccio il manager sportivo sì se no no dipende da quello che faccio quindi devo pensare a dei contenuti che posso condividere su LinkedIn chiaramente LinkedIn non è Facebook non lo devo fare per forza tutti i giorni lo posso fare magari una volta a settimana ma lo devo aggiornare LinkedIn è il social network più trascurato che c'è mentre c'è una campagna che sta facendo LinkedIn da un paio d'anni basata su una serie di studi internazionali che dice che 9 minuti al giorno su LinkedIn ti assicurano lavoro a sufficienza per il resto della vita questo è buono se fosse metti che fosse vero 9 minuti ci mettete più a più affate il caffè quindi suggerimento provate a mettere in pratica poi tanto domani la collega vi ammazzerà di cose da fare sui social e va bene fantastico LinkedIn è fondamentale aggiornate LinkedIn vi mandate il link e vi do un feedback su quello che state facendo ok chiaramente se io ho Google Plus e ho LinkedIn Google comincia a dire bravo c'hai comunque due di peso poi è chiaro che probabilmente molti di voi avranno anche Facebook se Facebook è personalizzato sul vostro nome bene ho bisogno di rendermi visibile comunque professionalmente online esistono dei siti che si chiamano Vcards 2.0 sono sostanzialmente dei biglietti da visita online io vi consiglio about.me biglietto da visita online about.me about.me vi regala a vita un indirizzo personalizzato del tipo about.me slash Mario Rossi Mario.Rossi Mario Linette Rossi dipende da quello che c'è disponibile e sostanzialmente io ho una pagina in cui posso caricare una foto in questo caso se mia bene se non metto un tramonto un'alba un mare trasparente un pappagallo mettete quello che vive molto d'immagine c'è una foto grossa vi consente di mettere nome e cognome una breve qualifica che vi autodate parole chiavi se non avete una qualifica 10 fiche di bio i link a linkedin a google plus in linkedin alle cose che avete l'indirizzo è vostra vita e vi dà anche la possibilità per esempio se avete un blog di inserire i feed degli aggiornamenti che fate e tutto questo graficamente viene abbastanza ficonzio se avete una bella foto che non si può guardare no allora a quel punto andate su google immagini e cercate una foto che in qualche modo una papera una foca qualcosa e avete un biglietto da visita spaziale bello che a questo punto potete mettere nelle info di contatto di linkedin about me se vi viene bene proprio bene lo potete anche mettere sul biglietto da visita che è già inserita mettete linkedin nome e cognome e avete about.me mariorossi questo a google piace cioè avete un indirizzo vostro chiaramente andate a vedere about.me c'è un video che spiega come funziona andate a vedervi dei profili sono tutti americani ma l'idea è quella fisicamente da gestire è facilissimo se sarà riuscito io c'è può riuscire chiunque poi potete divertirvi con i fonti i caratteri più chiaro più grande più scuro fondo chiaro fondo scuro ci sono 850 caratteri non mettete i corsivi sono orribili i corsivi non si leggono online dovete usare i caratteri dritti i corsivi c'è tutta sta cosa che ricorda va bene se fai la festa dei 18 anni fine basta dimentichetela non funziona più manco se fai l'invito ai conti ai marchesi l'old english serve caratteri dritti perché se no non si legge quindi poi ci giocate vedete via dicendo fate le prove fra l'altro la pagina su about me può essere seguita quindi io posso seguire te vi danno delle statistiche di accesso e vi aggiornano sui progressi è un biglietto da visita dinamico a tutti gli effetti ok l'ideale in queste cose in rete è vedere che fanno gli altri e poi decidere cosa volete fare voi il presupposto è avere una foto foto una foto grande perché lo spazio da riempire è tanto quindi se la foto destra funziona perché quando va a sgrana ammazza ok about.me come about.me esiste un altro sito poi scegliete voi quale vi 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 flower sempre punto mi principio uguale grafica leggermente diversa se non sapete quale sceglie fateli tutte e due tanto male non fare è il vostro nome che viene replicato abbiamo detto google più volte trova il vostro nome con le qualifiche ricordatevi le parole chiavi sono le vostre qualifiche google deve associare nome qualifiche nome qualifiche non mi qualifiche a me non interessa che esco stefano principato perché tanto esce pure l'ispettore della protezione civile a gente che ne sa il problema è che deve uscire stefano principato marketing personale deve uscire consulente marketing deve uscire le parole mie se no non mi serve perché le persone non mi riconoscono ci siamo quindi about.me è flower.me dopo di che ce n'è un altro invece che non è .me che si chiama brand yourself sono tutti americani che devo fare brand yourself in realtà lui cerca di vendervi il posizionamento su google preferenziale se c'è dei soldi dollari da dare fichissimo funziona io lo uso gratis e non spendere soldi in realtà vita uguale brand yourself slash mario rossi una bella pagina una foto ha delle grafiche diverse però indicizza la paura indicizza la paura alcune statistiche secondo loro dice che indicizza più su google meglio dei linkedin tutto ma insomma comunque è gratis non costa niente farlo sono biglietti da visita poi gli ultimi due che sono nati ce ne sono un'infinità di .me però insomma non è che vi mettete a farli tutti no? si branch out è il linkedin di facebook dei poveri io non l'ho fatto perché non mi piace non lo trovo utile però poi è chiaro che se stai a cercare lavoro fai tutto fai pure i tergi cristalli insomma a me non piace branch out però sì c'è si può usare c'è anche viadeo ce ne sono altri adesso io sto facendo i passi fondamentali i passi fondamentali è google plus linkery da paura perché da paura non ce l'ha nessuno perché nessuno ti spiega come si fa perché nessuno sa come si fa io ripeto io non so come si fa ma siccome ci trovo lavoro penso che funziona se il vostro scopo trova lavoro fatelo se no no se no no fate e questi about me perché comunque mi serve in attesa che fate lezioni domani con gli altri social che intanto cominciate a a usci si sono rapidi facili perché il problema è una volta che io ho fatto l'epilogo ho fatto l'abbio io l'abbio la metto sui batumi su brain io ce l'ho l'abbio basta fatta una volta che ho fatto la presentazione visiva ho degli schemi mentali su come raccontarmi quindi è fatta non perdo tempo poi dopo la fatica è iniziale e dopo recupero però due strumenti sono carini uno è onebio.com che sostanzialmente è un biglietto interattivo multimediale che mi dà una presentazione testuale successivamente un eventuale video che posso mettere mio posso mettere delle presentazioni da file pdf e posso mettere dei documenti in world e via dicendo quindi è un contenitore personalizzabile indirizzo mio onebio.com mariorossi con un biglietto che è fatto a bande verticali colorate che è presentazione video documenti slide insomma un micro documento molto carino molto dinamico molto fresco quando l'ho fatto io che era appena l'avano aperto da una settimana c'erano anche il codice embed lo potevi prendere e mettere in un blog in un sito però girava male su alcune piattaforme non girava benissimo però adesso l'hanno sistemato l'idea era questa oltre a avere un permalink era di dare un embed e portartelo in giro perché questa cosa dell'interazione era molto carina andate a vedere se adesso l'hanno fatto però questo è proprio nuovo questo è uscito a luglio e a luglio pure è uscito un altro sistema di raccontarsi che si chiama entus col th entus.com che è un sistema diciamo diverso di creare il proprio profilo curriculum nel senso che non male il curriculum tu lo fai in un certo tipo di ordine questo invece è carino perché puoi scegliere questo funziona con i link delle tue presenze online quindi puoi crearti per esempio progetti passati e metti il link a qualcosa a cui hai partecipato per esempio la tesi tua di laurea si è stata pubblicata su qualche parte puoi fare progetti presenti progetti futuri cioè puoi comporre un profilo ad hoc magari devi mandarlo a quel concorso lo devi mandare a quel colloquio e quindi crei un tuo profilo dinamico e poi lo ricambi e lo aggiusti è continuamente modificabile secondo le tue esigenze è un po' sofisticato da fare è facilissimo un po' sofisticato da personalizzare cioè immaginare degli usi diversi ma nasce per questo cioè nasce per esempio per freelancers che hanno bisogno di mettere in luce aspetti diversi secondo chi sono i loro potenziali interlocutori ovviamente ti consente di spostare però è chiaro che poi una volta che l'hai spostato lo mandi così il link ok entuse n-t-h-u-s-e entuse entuse.com questi sono proprio freschissimi e poi se volete farvi un sito personale fino a 5 pagine potete utilizzare claps punto mi vi da da 1 a 5 pagine personalizzabili linkabili con raccontate quello che volete anche questo no questo è un sito chiaramente se cominciate ad avere un google plus linkedin probabilmente avete già un facebook cominciate ad avere un about me un bring yourself uno di questi giocattoli fra one bio e entuse poi chiaramente navigando ne troverete altri vedete google comincia a dire cavolo dice questo poi tutto insieme dire cavolo fammelo un po' assemblare e quindi c'è il rischio che magari no cominciate ad avere una serie di risultati riferiti a voi se poi cominciare avete poi a fare slice share comincerete a fare scoop che ne parliamo più tardi comincerete a fare pinterest tutto quello che dovete vedere domani in una maia di social eccetera eccetera a quel punto è facile arrivare alla pagina e quando qualcuno vi cerca se trova una pagina interna che parla di voi dice oppo bacco cominciamo a andare nella direzione giusta quello è ovviamente il biglietto la visione non vuole niente però come nessuno se voi cominciate ad avere lo stare un passo avanti domande curiosità angosce ansie io non voglio essere visibile su google sbagliato corso non venite neanche domani prego per rendere visibile c'è questo per diciamo una persona di scuola si uguale uguale specifico mirato e io ci metto l'associazione come si chiama allora mi levi l'associazione e metti moviglia biglia come se fosse una persona e tratti l'associazione come una persona tutto da vedere fantastico l'associazione è un individuo polietrico ma anche no sì ma anche no allora allora dovremmo andare a pranzo d'orario però cinque minuti io non ho problemi io sto qua per voi quindi per me possiamo andare a oltranza io parto domani quindi la voglio per me possiamo continuare a oltranza non ho problemi allora il sito ok se è cambiato il mondo il sito deve essere open il sito deve essere non più delegato a chi ci si mette mano ma deve essere gestito da chi ne ha bisogno se io ho bisogno di avere il sito devo imparare a usarlo per imparare a usarlo non devo imparare ad html mi devono dare un software in cui facilmente posso imparare quindi devo avere un sito in wordpress wordpress che è un content system management che chiaramente può essere personalizzato graficamente meglio ad Steve Jobs però poi sostanzialmente mi dà un'interfaccia user friendly facile dove io posso scrivere contenuti pubblicare condividere contenuti ci siamo chiaramente la struttura di un wordpress può essere con le pagine tipo sito quindi avere infinite pagine però mi dà l'accesso a me poi se io voglio cambiare la grafica voglio cambiare la struttura voglio è chiaro che magari un esperto mi aiuta ma non è più il sito che ecco qua mettici questa roba e quello ti mette la roba e poi viene là 5000 no ma non per 5000 perché così non funziona se io non google premia gli aggiornamenti e se ogni volta devo tirare fuori soldi per aggiornare imparo ad aggiornare a questo punto mi faccio pagare per gli aggiornamenti devo imparare a usare quindi devo imparare a condividere a pubblicare devo imparare a usare i blog i blog ovviamente hanno un'area news ma ormai anche google che offre un blog gratuito tramite blog spot personalizzabile abbastanza bene mi dà comunque delle pagine statiche cioè mi dà delle pagine di posito e poi c'è un'area news solo che con google gratuito io ho sempre la home page e il blog cioè non la riesco a modificare più di tanto mentre con wordpress ho un'infinità di evoluzioni quindi l'ideale è tecnicamente comprare un dominio con il nome dell'associazione possibilmente farsi scaricare wordpress che è gratuito scegliere un tema grafico per wordpress da personalizzare se vai online di temi gratuiti per wordpress ce n'hai da vedere per le prossime tre vite quindi dagli intaglio dopodiché questa roba va fatto file transfer io l'ho ripeto proprio come ho imparato perché non lo so sullo spazio che hai comprato c'è il dominio e hai il tuo wordpress che hai l'interfaccia tua a quel punto che significa che hai la possibilità di mettere i titoli delle pagine creare i collegamenti e soprattutto fare un area news l'area news è l'area dinamica dove tu vai a sviluppare contenuti nuovi per soddisfare le voglie di google per far sì che tutto questo un'associazione lo può fare con al massimo due giornate di formazione e un grafico che ti fa queste operazioni minime cioè una personalizzazione grafica che non è detto che è immediata questo caricamento sul dominio che hai comprato è un minimo di avvio perché se no magari veramente ci stai tanto tempo fine o magari ti dà una mano anche a capire come funziona l'associazione il dominio no no il dominio che hai comprato dipende 60 lo spazio il dominio costa niente costa costa 15 euro l'anno e poi lo spazio dove appoggi il wordpress chiaramente se tu dentro ci metti il contenuto di Repubblica tutti i santi giorni 500 articoli è chiaro che ti costa un po' di più se ci scrivi 4 contenuti tuoi costa 35 50 euro l'anno fine poi il dominio una volta che l'hai comprato è basta il tuo il server lo spazio là rinnovi il contratto poi dipende dai servizi che vai a prendere integrati costa veramente nulla allora un'associazione e questo è il prossimo passo qualche americano ci sta arrivando ci si arriverà tra poco un francese si è già arrivato le associazioni vanno gestite come gli individui né più né meno il prossimo passo sarà il personal branding delle associazioni però è una scommessa però è così tornando sui siti mi vorrei sottolineare da non tecnico come spesso le agenzie spesso volutamente confondono l'avviazione di un sito che molto spesso ci possono mettere anche poco a farlo o c'erano anche delle strutture che lo fanno in automatico dal posizionamento che è un'altra cosa si certo perché su quello poi ci si marcia molto perché l'agenzia si dispare con 4-5 miler magari che è ovviamente di falsità interessante però su particolare il posizionamento non ci pensa il legge certo il discorso è chiaramente un conto è costruire l'armamentario poi chiaramente è orientare tutto il sito in modo tale che i motori lo possano leggere con un certo occhio di riguardo rispetto a delle parole chiari allora poi magari alla fine gli spendi pure 5 mila euro però tu a quel punto sei padrone del mezzo e quindi lo governi da solo casomai chiami il tecnico quando hai bisogno di qualcosa di veramente spaziale la cosa bella di tutto ciò è che è la mia esperienza in rete che ormai se tu vai a cercare qualunque cosa ti viene in mente che vuoi fare con wordpress ad esempio io uso google per esempio perché le mie esigenze sono minime tu poni la domanda su google come cacchio se fa mettere un video in modo tale che parte quando io apro il blog e se sente la musica in sottofondo così para para trovi qualcuno che ha già risposto e ti dice come si fa questo è il mondo in rete se ci cominci a stare le persone ti riconoscono e a quel punto c'è Fannagga per darti una mano io questa è la mia esperienza in rete quindi è fantastico ripeto un conto invece che io devo manovrare sui motori per introdurre quelle parole le chiavi che fanno sì che chi cerca associazioni ai disabili trova prima te piuttosto che a tutti gli altri tuoi concorrenti allora quello è un altro tipo di lavoro quello lo deve fare un tecnico non lo possiamo fare noi in autoformazione altre domande curiosità c'è voglia di pappa no? andiamo a pranzo? sì tu sei un'associazione allora un'associazione è fatta da un presidente da un segretario e dai soci soci fondatori perfetto allora io sono Mario Rossi presidente dell'associazione io sono Franco Rossi segretario dell'associazione io sono chi vuoi socio fondatore dell'associazione ma parlano le persone al nome dell'associazione non mi fate non mi fate che l'associazione diventa azienda se parla in terza persona perché sì sì la nostra idea potrebbe essere quella di interfacciarsi come simbolicità non mi firmo neanche se sto rispondendo come la situazione io ti rispondo sempre come io io chi sono cioè io sono il segretario sono il socio fondatore sono il presidente io invece penso che bisogna metterci proprio la faccia in prima persona la faccia in prima persona la faccia in prima persona l'associazione perché come faccio a mettere il mio il tuo il suo troppi ci siamo sì sì no mi metto le associazioni firmano in terza persona come le aziende ma non funziona nella mia ottica non funziona io non divento amico di un'associazione io divento amico tuo che sei segretario dell'associazione sì come azienda la tratti come azienda prego la comunicazione come dire ufficiale mettiamo la così la fai partire con il profilo parliamo di Facebook per esempio la fai partire con il profilo dell'associazione ci vediamo domenica l'unico greca vinto pallo aperta pomeriggio per chi vuole a quel punto lì come dire quel post dell'associazione i singoli membri dell'associazione commentano rispondono dei commenti lo fanno rimbalzare eccetera eccetera proprio appunto il primo step quello fondamentale di pubblicazione non è massimo nego che volerà risponsarsi di capire di quale l'associazione fa parte e l'associazione e poi i membri lo fanno rimbalzare e lo fanno sì certo sì sì no però prego come si potrebbe gestire un profilo personale su Facebook o su LinkedIn con la creazione di un logo o di un brand come non sono personale sì personale sì come come si va a correlare e gestire le due cose cioè sono due cose di giunta dovrei avere due profili no c'è chi lo fa c'è chi ha creato un profilo personale e un profilo professionale all'interno di quindi c'è Mario Rossi e Mario G. Rossi Mario G. Rossi è il profilo professionale ad esempio perché Mario Rossi è troppo gettonato oppure potresti farti che su Facebook fai una pagina business Mario Rossi però pagina business non profilo personale o a quel punto io ho marketing personale io ho la mia pagina business e marketing personale il mio profilo su Facebook è Stefano Principato tanto se vai sul mio profilo trovi tutte le cose che mi manca in personale perché cioè sto dicendo io ho un uso di Facebook personalmente professionale cioè non ho la foto al massimo che trovi è la foto del cane fine io uso i social network per la professione fine poi se uno li vuole usare ok però appunto se io voglio lanciare un brand mio su LinkedIn metto io come persona professionista e su Facebook a questo punto mi creo una pagina business a questo punto è un po' Grazie. 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 Eh sì, è fantastico, senti il piatto di artesio, ci hai fatto una fortuna, e ancora la gente parla di me. E come c'è il piatto di artesio a ciò? A parte di questo esercizio, parli parli. Il problema è che, chi lo fa questo di poco è che non rende la riposizione, per cui se tu lo vuoi adesso, ha già avuto il piatto di artesio, per i due terapia e poi... In due amiche, se tagli è facile. Ma io non lo hai sulla porta, se ti hai detto piccolo. Lo hai sulla porta? No, c'è. Ti dà anche piccolo, lo fai nessuto sulle porte. No, allora è la possibilità. No, 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 è la possibilità, perché se stai in mezzo a fare nessuto sulle porte. No? Non ci siamo. Per due righe, prendo il copo di cucciule o tutte queste queste queste... Cioè poi c'è, gli altri un po' più in mano. No, all'altra adesso, all'altra, e i cerati... la diga ripetisce qui, ma non da, non fai così, no? Tutti hanno fatto le due dighe? Quindi, come vedi la dighe, non c'è un testo di dighe per il dighe. C'è un 360 gradi, ma non c'è un po' di dighe. Cioè, il polesso c'è da vedi, magari non te male, non c'è un metodo pubblico di testo. Vi assumo una diga? No, no. Così non funziona. E certo, se tu ci metti, io so, capi di, io so, la rega e cucina, non c'è niente. Togli tutto ciò che non serve. Togli tutto ciò che è banale. Togli tutto ciò che... E' preso virtuoso, perché costruito, dire che vorrei fare, invece poi diventa che sconfore. E' preso virtuoso. Brava, esatto. E quindi togli tutto e tutto. Togli il dubbio, il incertezza, la fabbrica, la razza, il titolo. Vi dici solo per questo. E' la diga. E' un gioco. Ti sto dicendo che esci, il polizio della seconda. Ah, ma fai finta che siamo quello che vorremmo fare. E' la vita precedente. per dove fai il tigro? Con il viaggio! Se non hai un solo interesse? Ho una sola strada. Come fai a stirare il fatto? Io non c'erai, come mi interessa è quello che è strada. Tanto questo è un metodo, no? Il metodo per riparare a sintetizzare. Per riparare sintetizzare, il terzo diceva scusami se ti ho mandato una retina lunga non ho avuto il tempo che stai quindi e sempre ho tanti interessi fantastico però ho tante vite infatti il mio studio poi mi viene ho tanti interessi fantastici tutti mi portano soldi un interesse una liga una liga chiaramente una liga non contiene liga non contiene liga non contiene liga una liga una liga vuol dire soggetto aperto non prende soggetto semplicemente gli aperti semplicemente cantà meglio ancora allora quindi il mio audaci il mio audaci provate a sintetizzare la liga di una parola che comprende tutto ciò la liga è fisica le 5 ma le 2 dicono tutti così ma più ci riesce a continuare una parola la parola è più chiave me stessa me stessa se lo dice lei è me stessa se lo dico io è me stessa me stessa se posso me stessa andate chi ci faccia e questo è la vita no no c'è ma ho un sostantico già questo cambia molto sull'aggettivo stai nel dubbio io ho fatto un tipo di certezza c'è anche un'idea di certezza lo dico qui, ti cambia bellezza è diverso la pelle bellezza è che fa questa città è bella io spiegavo è il tuo ma bene adesso qui devo sentire l'altro non c'è che sto sbagliato questa cosa esce fuori per stessa ma se voglio dire io scrivo 10 litri quindi ci devo mettere la sostanza ci siamo? sta colpando l'avvocato? non è fuori no, sono ciò io non mi dirò che è come un botigno allora io voglio mettere l'amica per poi sta parola possiamo mettere l'avvocato? scusate possiamo mettere l'avvocato? tra i consulenti in contesti nazionali e internazionali in ambito corporate che è il direttore che è il direttore che è il fondatore è arrivato da per i miei di tanto allora certo 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 ok ok però sono quattro dicimi di parole 12 quindi inclusa anche le congiunzioni con quelle lingue scusate no allora considera che no ci sono un punto 3 14 tra le parole e gli stancanti di mente no no tra i 14 segni io gli assogno di un discorso o di altri non c'è un contatto che è un contatto che è un contatto ok i contesti puoi anche toglierli sono superiutari perché se tu mi metti in contesto nazionale in tanto tanto nazionale e internazionale vuol dire comunque io lo voglio non essere scritto se mi mettete in un contesto specifico aveva un contesto di esistere non è stato specifico magari siamo a dire che ti chiede per quale contesto la seconda ok e c'è la quella inizia ok la parola la parola la parola principale è il consulente però si è pagare consulente 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 non è rimaniale consulente il consulente non è rimaniale ma ha un senso l'italiano consulente riferiamo si ma mentre consulente in reazione al tuo parco di tentera se la tentera è questo è il nuovo contesto nazionale ha più che senso e poi sarebbe sarebbero tre sostanzialmente sarebbero consulente che è il coaching per il video principale è coaching con sardin che non è per il no è coaching con sardin coaching con sardin sarebbe a lei dovrebbe essere coaching e commerciale o sardin e commerciale ok ok e come il misterio che ha sottoscritto in attività in attività in attività ok diciamo così ti piace di più ok ecco nel titolo che il mondo coaching è molto anche vasto cioè se dovessi fare proprio un'opera di di strizzamento sarebbe il manager cioè consulente e business coaching perché questo punto è che direi coaching in genere significa direi tutto niente hai guardato due parole in più te parole grazie ok non è una regola vuoi mai domare qualcosa che inizia adattivizzare in un modo che non sia proprio comune questa è una decisione no 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 non è una cosa dice che motivo è effettivamente complicata non è facile assolutamente non è solitamente facile devi fare a punto dove realizzare magari un risultato che si aprile di risultato però probabilmente qui ha già una professionalità di conoscenza di abitata a già da in a presentarsi a presentarsi a fine del certo numero professionista ha una facilità di commerciamento su questo no però in confronto alla discussione sono sempre due che fare la ma non è mancare questo caso siamo arrivati a una definizione di un professionista un grande esperienza le tre parole di servono che va bene è una legge rispetto a nessun altro siamo appena un metodo che è assolutamente fantastico io questo metodo lo 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 sanno con integrativi per dire fuori identici e funzionava una grande che su emozza lente su tutto 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 l'idea fantastico si dice che imparare a professore sul detersivo stiamo facendo la antica applicazione la scuola gli esseri umani le persone non sono complesse stiamo vedendo come si può fare ma sicuramente una parola chi ha il tuo che definisce il corpo fisico come se dà un nome che non è che non è che su l'uomo della lente ma questo è un momento creativo, ma questo è un momento creativo, è quello che noi stiamo facendo insieme, perché poi da qua cerchiamo di trovare degli spurti sull'esercizio che seguirà subito da qualche indire che è ammazzata, se non hai capito questo tipo di logica. Vediamo, quindi è incredibilmente difficilissimo, anche perché non avete avuto nessuna guida, ma questo non serve a me per farvi stare volando in questo mondo e mi sto a fare una cosa di sapere. Grazie. 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 Era generico. Esatto e quindi qua vuoi lavorarci meglio. Chiaro no? A questo punto è chiaro che tu non stai facendo più l'uomo di assunto, stai facendo un'azione linguistica molto più sofisticata. assolutamente difficilissima, però vale la pena di provarci, però già così ferma, se questo è il tuo aiutato nella tua lingua, la metti sulla lingua, hai trovato quello che serve. Che ci metto sul biglietto della visina? Hai trovato sotto il biglietto della visina che cosa scrivo su about.me? Ok? Io lo so che, per l'esperienza, che in maggioranza più dei casi, quello che esce poi da poi mi sembra che la scrivenza è impossibile, invece in realtà è buonissimo, soltanto che poi si è debubito in te con la scrivenza, e questo lo facciamo, non lo so, non c'è nessuna invenzione. Storica dell'arte, innamorata dalla mia terra salentina, ma che tradisco spesso con il resto del mondo. In una parola, Biazzi. 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 Anche questa, che cos'è un ampio? Questa è un ampio, molto sintetica, diciamo che nel suo è quasi un tweet zoom, un curriculum per tutte, che si porta moltissimo adesso. Biazzi. 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 Ok, no, ci mi stai guardando qui, ma chi dice? Chi vuole? Specializzando il servizio di politica? Specializzando il servizio di informatico, sì, però ormai c'è l'informatica, il contenitore è finito di tante cose, un aggettivo contro un aggettivo, lo posso contare l'aggettivo aperto o no, un aggettivo informatico, se si può, perché se non risulta un po' parlo. Perché? Perché le due o tre aggettivi, ok? Cioè, intanto lo navigano, l'ho visto noi qui, il camuffano, e allungano. 25-3 aggettivi, lo asetto e le specializzazioni. Eh, c'è anche una cosa diversa da informatico. Allora, se invece che informatico vi metti il conservatore e l'avministratore, direi te, butto. Sì, ma così non lo capisco, chi se ne lega, però ti lo capisce, lo capisco. Cioè, se ne zioni però, no? Non ti chiama nonna Carlotta che non gli emoziona pasqua, no? Ti chiama qualcuno che ha bisogno di un certo tipo di professionalità. Allora, specialista, specialista, lo specializzato è quello che ha studiato tanto con la volontà ma non so di che si parla. Il specialista è quello che salva l'area con la giornalità. che ha la differenza. C'è la cosa. Il T è il T. Ok, fantastico. E questo è la sua parola. Specificando lo metti quest'altro. Il signore è sentito, non mi passare a casa. Cosa è? Questa è la logica. Mi riesco a spiegare? Ci vuole un po' di pratica, ma non è immediato. Anche perché non è. No, se sono geometra, sono geometra. Tutti dicono che cosa è un geometra. Non sai che il padre è un geometra. Ok? Il dottore si sa che è una divisa. Ok. Ma tutti questi mestieri uomini, ma chi li conosce? Chi li sa? Quindi, se siamo noi qui a valorizzare, non costruirci sopra, è chiaro che diventa difficile per qualcuno capire perché deve lavorare. Di che ti devi dare lavoro? Appassionata della natura. Il rispetto per la natura. E questo a livello personale? Non fai il logista del mestiere? No. Ah ok, è venuto questo. Tu hai dato che fai la vita? Fai la natura. Fai? Candela. Candela naturali? Già, non stiamo contando. Ci sta. La parola è costruzione. Quindi, l'illuminazione naturale ci sta. L'illuminazione naturale. Eh? E qual'altro si scusa bene per tutta la lingua? No? Ok. Vai. Impegnata nei progetti dell'astretà che fanno avanti un giorno in azienda? C'è. Ma non ti piace, allora. Si sente dalle parole? E poi, ma... Si sente dalle parole, ma... Andiamo impegnata. Ok. Progetti dell'astretà e poi non so come... Progetti di impegnata. Progetti dell'astretà e poi virgola c'è scritto? la società delle grandi dati che c'è scritto là? portando avanti i giovani giovani alle società di portando avanti i giovani ecco design canvas genio ecco aggettivi siccome da vicolo c'è una malattia non so che c'è la parola no in questo caso è più difficile ci devi lavorare un po' non hai detto compriarlo tu che devo chiederti no, vogliamo chiederti no si, allora prova ok, comunque dai ci siamo ci sei? sulla parola non tanto vabbè, sulla parola non tanto amo viaggiare la potenza e se vanno viaggio la potenza e se vanno ma stiamo chiedendo la società sociale sociale? sociale sociale la società sociale però è una cosa un po' diversa dalla clientela cioè la clientela c'è la clientela c'è stavo cercando di uno dei vari quindi dovresti cominciare a prendere in considerazione un approfondimento dei tuoi studi della filosofia oggi si parla appunto di social business cioè come il business può diventare sociale quindi sostentibile quindi eco-ambientale compattibile utilizzando delle leve diverse quindi utilizzando la rete sostanzialmente per coinvolgere vendetti investitori clienti eccetera eccetera su questo ci sono nel suo punto tre stelle in questo tutto in quanto in elettrica social business e la social enterprise che è un'evoluzione dell'economia sostenibile nell'ambiente sostenibile guarda se riesce a vincere su degli strumenti soprattutto negli gatti perché lì vuoi provare qualcosa che ti fa diventare un'informazione improvvisamente interessante lì allora dai avevo di altri tipo del meraviglio che c'è io chiudo dai la frase e la frase non c'è vai io ti puro vedo no io ti salve non c'è vai eh la nostra malattia è è che la mesura è la mia la mia è la mia la mia la mia è la mia la mia la mia Ah, e poi che diventerai? Ah, benicolitato. Ok, però poi debito guardare il tuo attuale. Il mio taglio è che c'è una complicazione. Ok, vabbè, sì, ma c'è un peccato. Allora, il padre dice che il suo mestiale è consolidato, cioè, principalmente dopo, è la storia del suo. Quindi è chiaro che un medico non ha bisogno di tanto di rigori per presentare che fa. La gente cosa ha, che cosa fa un medico, sa cosa aspettarsi da un medico, anzi, perché non è un po' più semplice, se no, come esce, per esempio, io, ma non vedete tutto, vado a prendere il successo, fanno un problema, vado a prendere, non vivi più, quindi è chiaro che questo lavoro di vera dignità che dobbiamo fare nei mestieri nuovi è chiaro che non è che non è molto più semplice, ha un tipo di professionalità riconosciuta. Tra l'altro è indiscutibile, nel senso che si sa che la cosa è un medico, fine, è un grosso modo. Ok? Non si sa perché serve di duro, questo è un problema che mi ha dato. Ok, grazie. Vai. Io sono un teatro di strada. C'è l'altro paziente? No. Vieni. No, perché sono personalmente negata per vendere, per vendere. Alla mia pronta è della felicità, perché mi piace studiare da grande volentino, e la parola è piena. Studiare? Non è dunque. Io per la studentessa ho pieno. Ecco, perché con tutte le scuole che ci stanno mi sono candidata. Sì, no, certo, quindi se la devi orientare al lavoro, invece andrà a modificare. No, che chiaramente se devi, ecco, l'aspetto di acquisire conoscenza è un aspetto positivo, la voglia di avere, dire, proprio bagaglione. Sì, certo, la pensi. se devi lavorare, quella cosa vera, la sua domanda è un'obbligazione di lavoro, cioè per te ti è dovuta a far capire di che cosa sai l'esperienza, di che cosa lavorare. o studiare, di che cosa lavorare. E' un'esperienza di lavoro. E' un'esperienza di lavoro. sono sempre un po' applicato una volta che ci stiamo nel senso che non c'entra come la professora comunque portarmi a essere nel mio lavoro non essere è una spiegazione diciamo io siamo filosofi no, però non so sono 20 molto spesi più persone magari non puoi finanzare ma c'è quello del tipo di commissione c'è il problema del sistema non c'è cammino 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 facciate ok ora ok è chiaro di me c'è nessuno voi grazie grazie chi ha il docente se volete giù giù là ah scusa sono un facilitatore territoriale aiuto i territori a crescere e creare tutto quindi sono un facilitatore cioè la loro mercato facilitatore e allora risalcare aiuti i territori aiuto l'organizzazione meno no non i territori territori in tesi con mesi locali che operano nel territorio quindi quindi se volete la loro mercato ok talmente specifico che questo è talmente specifico che è arrivato l'attenzione ovviamente è un'interessante prima ma c'è una parte di cercare a chi sono un fotografo specializzato in il mio l'organizzatore è un'interessante e gli altri non c'è più è un'interessante cioè diventata una nicchiera ormai sono un fotografo ovviamente bene analogico il bianco e nero ma tante è una scelta poi tra l'altro il mio fotografo è un'interessante il mio l'organizzatore con il colore è una scelta superfa cioè è importante basta il miglior lavoro allora l'impassionata di moda ispira la strada dell'indicolata l'unca di tendenza è una parola l'uco un'altra un'altra va tantissimo la parola personal stylist sì sì personal stylist come vuoi ci sta una delle decisioni che si chiama Hunter TV che è un'idea che sta basando su servizi e su ciò che è cura in tutti gli aspetti della vita fatela vedere è bellissima come dire la mia tantante è bellissima passava un'altra che ci vuole e poi non riesce a fare nessuno è bellissima esatto questi sono i mestieri che non esistevano dieci anni fa e oggi effettivamente hanno un'idea impressionante è bellissima è bellissima sì 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 ok ok è bellissima è bellissima è bellissima il mio figlio è quando la mia figlia sono un figlio di fare cioè gentilmente cioè non è che è passato che mi fa lavorare il progetto a quello dei propositi che mi ha fatto un progetto eh amici perché ti devo come è uscito il mio figlio il progetto director l'associazione working progress diminuito più progetto director as working progress e la parola è un progettista che in inglese sarebbe il mio figlio project manager e il mio figlio oggi come oggi sì però rimane scelta perché voglio mettere i box e vedere le persone sì però in realtà è un progettista perché si piacerebbe qualcosa di più imprese un progettista sociale un progettista professionale sociale e un progettista un progettista già è un progettista un po' meglio per qualificare cioè più specie se c'è lo spazio che intenzione ok se volete non è no 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 andiamo prima intenzione tu allora guida turistica presidente associazione sign to promote scuola passione per il mio territorio hai cercato di curare le linee no c'è stata la passione di c'è una no l'ho 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 rispita per il l'ho ok sì funziona perfetto ok allora qua stiamo in onda riflessioni quindi ripeto a loro che sono arrivati a me c'è la città scrivi dieci linee di presentazione su te stesso poi premito c'è 5 quindi fai un riassunto a 5 poi fai un riassunto a 2 poi fai un riassunto a 1 e poi cerchi di estrarre una parola di sintesi di tutto quello che è l'incredito avete sentito i commenti che non mi è con l'idea e ti raccomando qualche materiale utile o per lì che non per il biglietto la visita o per il ciò che è bene in quale area state focalizzando la vostra attenzione ok quindi questo poi volendo se il risultato non vi piace non vi convince lo volete riprovare a farlo non fate con 10 di caselle tante volte e poi più roba ci mettete più di assoluto rimette interessante c'è una lettera di un'idea di un'idea di un'idea di un'idea un po' di uso ma da qualche parte è un'idea ecco ok domande riflessioni curiosità allora ok quella cosa dalla vista che avete visto è un modellino che ho inventato il marketing tradizionale usa come modello concettuale un modello elaborato negli anni 60 da tale meccanese e portato poi a un successo andale da il codice del modello del 4G sostanzialmente qualche cosa dice questo modello delle 4G che esistono quattro variabili chiare che sono il prodotto il prezzo la proporzione e il prezzo la distribuzione e la totalizzazione della merce di un temi se io riesco a gestire in modo efficace queste quattro variabili ottengo una diciamo efficacia commerciale tale o un altro fatto bene che mi porta in un'idea delle risultate risultati appunto di mister nominale quattro variabili scuola manche di se stessi immagini della persona e le persone sono più complicate le cose qui io ho dovuto estendere guarda la stavola le ho fatte 12 anche proprie è un'idea di basato su piani di digeriera, su altre cose e di altri consulenti. Questo piano di margine impersonale è definito da questo modello che ho utilizzato. Vi racconto velocemente il modello perché poi nelle slide trovate delle spiegazioni. 5 livelli servono per identificare le caratteristiche fondamentali dell'individuo. Il primo livello è il tuo patrimonio personale. Che cos'è il patrimonio personale? A parte ciò che ci lascia a mondo, i soldi che ti trovi in banca, è sostanzialmente la tua personalità che sei tu e le tue passioni. Il sei tu, ovviamente, è avverso stamattina, è una cosa che non è complicissima, però è un qualcosa sul cui vorrottare. I tuoi collegi, le tue qualità, i tuoi punti di forza fanno di te un essere in unito. Quando gli dico che sono speciali, tutti noi siamo speciali, si tratta di decidere che cosa voglio valorizzare, che cosa voglio valorizzare. All'aspetto della mia personalità voglio, per esempio, condividere i veri. La seconda B, che è la seconda parte del patrimonio professionale, sono le mie passioni. che cosa ti piace fare? Io ho avuto un master, un maestro, un maestro, un maestro, un maestro. Quelle non più. Nulla di particolarmente brillante, anzi, nemmeno sempre soltanto. Tanto, quando gli esempi, il maestro incandava non sulle automobili sportive. e aveva una rinconoscenza delle macchine sbottive e veramente approfondita di essere adesso assolutamente non male con un sistema di rinconoscenza e dalla laureata dell'economia neanche con particolarità di libertà però aveva questa passione passione vera perché alla fine di questo master era previsto un project work che mi piace capace così cioè anche nel progetto è fatto un project work che rimane nel studio di studio bene perché fa una serata fantastico abbiamo trovato insieme con altri colleghi alcuni nuovi in cui potrebbero rivolgersi e avete anche amato la parola internet che oggi ha molto più facilità d'accesso e hanno sentito mal di cui voleva fare questa ricerca questo studio questo progetto di macchine il bilancio in alcuni modelli che erano citati l'hanno chiamata nove ma tra le proprie così comunque erano interessati quando l'hanno visto che passo perché uno che conosce così le macchine loro non ce l'hanno se non ce fanno meccanico ma non ce fanno meccanico loro stessi responsabili di macchine non conoscevano così intinamente le loro macchine e non hanno prescritto la passione ha cercato di fare la differenza io ho in aula un'altra ragazza che dice che avevano tutti a tessi perché è così che fa il mondo un'altra ragazza che era stata la cittadina di unione se inizia a riferire a quello di un progetto quindi non potremmo entrare in un serpio quindi quindi mi mettevi alla tavola che poi faremo proprio fare la cittadina faccio la cittadina se mi sto andando dai grossi di la lega pubblicina e la cittadina di un'intelligenza cioè e ora che faccio una volta con i due anni di divorzio e allora non sai quello che faccio rivolgiti a qui che fanno in un serpio a modo che conosci nel giro di due anni diventava responsabile commerciale per l'azienda di un serpio perché disegnava e vendeva appigliamento di un serpio io non c'era lei lei ovviamente viveva di un serpio che ci vogliono nel stesso modo però è anche vero che ci sono delle cose che ci piacciono particolarmente delle cose che ci vengono particolarmente bene allora è interessante questa cosa che è chiaro che se mi viene bene studiare faccio un gioco no? a me significa particolarmente bene studiare la cittadina io non facevo fatica a studiare ma anche la tua mi hanno dato la memoria insomma in realtà io credo che la faccio vedere la faccio vedere la faccio vedere la faccio fino ho fatto l'università come si fa l'università? io faccio vedere che davo il libro facevo medicina davo il libro a un amico mi giravo e mi diceva dimmi la parola mi diceva la parola comunque tipo fosse io gli dicevo dove la parola in pratica non lo diceva prima che c'era la domanda e non lo diceva questo quando mi sono andati rispondendo a dire che di questo io lo porto per fare male tanto non ho mai preso 30 millimetri e che non si fanno così in dettaglio evidente diciamo ma tipo lo stesso poi questo è per dire no? poi l'altro ciò che vedo è che la capacità di studio è da dire nanti altri quindi ti rendi conto quali sono i sistemi migliori per una ragazza che riesce quindi ti rendi conto quali sono i sistemi migliori per una ragazza che riesce ognuno di cui ha delle capacità deve trovare in modi ok? lavorate sulle emozioni pensate a quello che non sta bene pensate a quello che mi viene facile da fare e su quello potete costruire un business potete costruire un'attività potete costruire un studio cioè io mi verso la scritta del tecnico è fantastico chi è che mi pare per scrivere? oggi un sacco di gente cioè oggi andiamo a santo di scrivere quindi il ghostwriter dall'altro è uno dei misteri pagati il ghostwriter lo scrittore c'è avete presente oggi quanta gente parla in pubblico? avete presente oggi quanta gente ci stanno? quanti personaggi? quanti personaggi? voi pensate che si scrivono da solito? nessuno scrive nessuno esistono più le professionali nessuno scrivono avete presente quanta roba viene pubblicata del video? chi ha scritto? tante gente che si scrive pronto non è che non c'è tempo di scrivere c'è un esempio no? esiste la possibilità lì posso diventare giornalista se non vuoi farci diventare giornalista quanti in realtà ti fanno entrare quanti giornali te lo portate solo e ti viene e ti fai chiamare tanti blogger sono diventati giornalisti per una franazione e ci si occupano di nicchie se voglio diventare lo specialista tenera è complicato perché cioè ci devo andare in questura dei cosi più morti come li faccio in casa quindi per poter capire allora c'è una situazione diretta c'è un gruppo che posso mai pubblicare no? però se io mi invento una nicchia posso diventare giornalista ci sono tanti giornalisti che sono oggi invitati di tecnologia che erano ragazzi appassionati a parlare e tutta sta roba lui non ci dice solo ha raccontato veramente bene che sono diventati pian piano i ragazzi sono ragazzi di 25 e 30 anni gli amici sono diventati bene vanno spesati dai giornali ai primi più figli del mondo quindi chiaramente si possono fare tante cose se hai delle passioni sai delle cose che ti vengono bene e delle cose che poi non vengono allora il tipo di persona che sei le qualità che hai sia da ciò che ti viene bene cioè da ciò che ti appassiona cioè da ciò che ti diverte è un processo di ricerca che ti devi mettere in piedi un processo di ricerca che ti devi solitare quando si dice non so che fare di andare si dice una cosa in propria non so che cosa devo cercare non so che se non ci sia da fare perché è possibile che uno non ci ha da fare perché può dire che ha una vita poca siccome la vita non può essere vuota perché sarebbe in vita se ti spiega guarda da parte giusta togli un sacco di cose da fare anzi probabilmente la vita della pari quindi è il problema opposto ci siamo quindi prima il 2 P P, personalità e passioni, assetto, patrimonio personale. Seconde 2 P, propositi, che potenzialità, propositi, che cosa vuoi dalla vita, che cosa ti aspetta dalla vita, voglio lavorare, da fine viene andate dal frattacento, se ne voglio amici. Non lo so, 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 non lo so. Fantastico. Vincere il concorso, Dante da France, studia, vincere il concorso, grazie a lei, di scusate. C'è una cosa che fanno in un concorso facendo i rischi, in un po' di definizione delle nostre. E perché anche il punto è di sopra che il tuo problema non è lavorare, il problema è andare stato dietro, il problema è fare atto nella vita, che va bellissima, cioè c'è una bellissima, mai altro, ma se non vuoi fare atto nella vita e poi realizzarti nel lavoro, quali obiettivi avresti? Il problema che noi facciamo è la valutazione di quello che abbiamo, noi decidiamo che cosa al mondo ci non c'è, funziona così, funziona che tu decidi quello che è, che vuoi fare, dopo di che dipende di quello che ti serve per farci volare. Questo è il problema che non c'è, non c'è soldi per farlo, che ci faccio, dov'altro? comunque bisogna avvicinare tra quello che puoi fare e quello che hai come potenzialità tutti abbiamo dei talenti però la maggior parte di noi non stagliare di forza non sapere cosa potrebbe renderli moneta bene, farete il nostro dialogo studiate in genere se sono tante cose oggi nuove che intervistano il problema è chi vuole dare ma cominciamo con i gradi che hanno trovato delle domande a cui rispondere e che sapevi che va bene noi esploriamo che può essere collegato a una passione che può essere collegato a una passione io sono una storiana che mi ascolto sempre che sia una storiana che è Isavera una professoressa delle medie chiude la scuola per mancanza di scuola di 25-25 e si ritornava è un'interessola più giovane più grande e più piccoli hanno più 44 anni più o meno faccia parte la gioveria che non è vero è un mondo diverso non c'è vero di questo ok viene uno dei questi non era un corso di percorso della mia ex social non era un'unitazionale era del diventamento di un'unitanda Che ti piace fare insieme a te? Devono cliccare su Facebook, ecco. Devono cliccare su Facebook, ma guarda questo. Non lo conosco, ma sai quale c'è da che so fare tutte le mie? So, per l'ultimo che sai. Beh, fantastico. Devono truffare tutti le mie. Sei quale non è che? Fai le volte. Ha cominciato a fare le volte per le volte riempirando degli amiguiti dei suoi primi. Dei compagni. Se potessi questa le faceva veramente bene, mi devi dire se non andava. Però poi, comunque, si, però poi le tagliamici devono dire magari più di tanto non badani. Idea. Prova a fare qualcosa per le enoteche. Perchè le enoteche, non lo sappiamo, ma stiamo parlando della prima anni 90, quindi un momento un po' diverso, non c'erano tutti questi locali per gli avventi vivi, c'erano le enoteche che avevano un'andata che si prendeva delle cose che non avevano sempre l'abilitazione e il sentimento di più fresco. Cioè, inventa di qualcosa per le enoteche, perché comunque il vino accompagna tantissimi doci. La enoteche non sa fare le doci. Questa comincia a battere un po' vicino per le enoteche, che non conosceva le enoteche, e l'endoteca gli chiede però qualcosa che dura lungo. C'è il dolce, purtroppo, c'è due o tre 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 o tre, comunque stanno andando a me, non sai da andare in lavoro, ma sì, ma si altera. Quindi gli chiedono un dolce secco che dura un po' più di tempo. E questa tende su accolte ha la pulisona, cioè il dolce martovano secco, molto particolare, molto buono. quale è il dolce martovano che dice dell'identità? Invece che fare una pulisona classica da sei posizioni, lei si mette un pulisono a monodose, che è fantastico, perché crea degli stampini in cui appigionare quello con l'allumina, eccetera, e lui comincia a fare il pulisono a monodose. Viene al corso e impara che cos'è il packaging, che ne parleremo già poco, quindi, insomma, riesce a curare un po' più la confezione di questa pulisona, che lo fa diventare un carabellone con tutta la carta trasparente, poi nel tempo fa una ordine di gritta, metterà gli ingredienti, e va in tutta la strada. Quindi questa monodose diventaria lì. Comincia a tirare le poteche e le poteche gli inventano questa pulisona. Comincia a ordinarne un po', tanto che il forno di casa, non lo fa, non lo fa più. A questo punto, ok, mi faccio, ma posso trovare un po' più di spiegare. L'idea, poi cerchiamo la poteche la poteche la poteche la poteche la poteche la poteche, ora è una merita, che è un professore di Stati Medi, che è stata una stasso. Allora, scriso l'ora, scriso l'ora, scriso l'ora domani, gli capita, tra i clienti di questa, di una delle poteche, cioè l'eserviva, gli responsabili di acquisti di un poteche romano, che gli piace il tutto e gli chiede, se può avere l'esclusiva, per mettere questo monodose come omaggio ai suoi clienti nelle stanze quando erano. e quindi, chiaramente, aumentano le prozioni delle rotature. Quindi, in questo hotel, cominciano a servire questa spiegazione romana ai clienti, che abbiamo in casa, dopo, nell'arrivato. L'abbiamo lasciata, perché poi è la proposta di vista, chiesa l'acchiettolo, l'ultima consulenza che ha avuto, come si fa a esportare la spiegazione romana a Tokyo, a New York, perché alcuni clienti, c'erano andati, avevano trovato un poteche romana, un poteche romana in esclusiva, e non lo perdono, a Tokyo, e a New York. Nel frattempo, si era comprata la pasticceria, perché il problema gli eseguiva, altri cipri, credo, so fare tutte le voci, ma ha detto poco. Questo è, ah, con le passioni, c'erano questo impero, che sono troppo, e mi chissà costante, però, ha risolto sicuramente il problema di dover campare, campare anche bene, e campare facendo cose che da dire. Questo qua è lì. Allora, che cosa so fare, che conoscenze ho, che esperienza ho, se l'esperienza non ce l'ho, che posso fare per acquisirla? non ho mai fatto niente, questo è quello che cominci a fare, no? non ho mai fatto niente, Che vi serve, che fare quello che vuoi essere niente? Io non li vuoi, c'è delle cose che non dovremmo fare, no? Che vi serve, che vi manca avere, per farlo? perché, perché anche adesso non ce l'ho a dire, Però, quindi, l'altro è meglio, no? E poi, proprio sul lato psicologico, vieni qui, che un gatto viena, è migliore. Ah, su piccole si parla di vitamino, con natuzzi, divano, paziente, velato, bravo, hai anche ragione, mi piace. Allora, che ti mangia, per fare quello che mi piace? Soldi, sì, ma per farci, che ti servono? Le soldi che ti servono? Allora, eh, il terapia del sito? Eh, insomma, di consiglio, abbiamo già visto prima, che insomma, sono veramente, no, sono veramente minimi, minimi, superflui, no, minimi, locale, diciamo, cominciamo a andare, locale, che non si è evitato, 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 piccoli, piccoli tempi, fantastico, da tempo a tempo, che io non ho i soldi, che devo cercare, un locale, che permetta di utilizzare, i piccoli eventi. Agli altri, gli eventi, non mi fanno altre ore, diciamo, che non sono a casa piena, a casa degli altri. Se non posso, aprire un ristorante, perché non ho i soldi, da aprire un ristorante, posso finire, a casa degli altri? e intanto, mi faccio conoscere. Facendo questa logica, banale, alcune delle persone, che lo seguirono, in compasione di idee, hanno detto, poi, di un ristorante, che gli avessi in casa, perché facevano un sacco di soldi, e l'autolavoro, non c'era due giorni, a settimana, no? Invece, che tutta la settimana, fa l'altra età, io. Infatti, potrebbe essere, per quanto riguarda le cose? Allora, no, no, peraltro, ha messo, che l'idea è quella, io, in realtà, allora, ecco, che molti lamentano, che non hanno l'esperienza, per poter giustificare, per quanto riguarda le cose, per quanto riguarda le cose, per quanto riguarda le cose, chiaro che, se siamo nell'ambito del know-how, è difficile, per l'esperienza del know-how, se qualcuno non gli permette di farlo, Però, intanto, vi faccio conoscere, Non mi sembra aver salvato, qualcuno dalle acque, coltive che sono medico, In realtà, voce a fare medico, poi se qualcuno, usano delle acque, ma, beh, posso anche fare dei watch, senza bisogno di studiare, tutti i miliardi, no? Mi riesco a spiegare? Quindi, nel tuo potenziale, che cosa c'hai, che gioca il tuo valore? Ti mandano i pezzi di carta, quanti di pezzi di carta? Dico, forse, ti mandano i pezzi di carta, apprendi i pezzi di carta, chi c'ha fatto di pezzi di carta? C'è sempre la laurea, che c'è sempre la testa, per il gruppo di due, che c'è sempre la testa. Tanto cominciano, e poi tanto fanno, certo, il vero ha fatto, in alcune, se hai vinto lato, per noi, 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 perché hai una scelta tua, allora, tuo ha fatto anche il bevere. Hai una scelta tua, ma non c'è niente. Più che avremmo fatto? Quindi appunto la positiva, che potenziale ho? Che traendo, cosa adesso fare, cosa mi viene, che capacità ho? Sì Che esperienza ho? Se l'esperienza di marcia, me la ho identifiché? Dio, no no no. questo è il padre uomo il padre uomo c'è andato in video continuamente mentre il padre uomo è personale un po' padre, tant'ora un po' è piacano nella crescita ciò che ha avvisato sono delle ragioni anche di metà adulta sembrava una rivoluzione governicana, ma è durato pochi anni perché poi subito è subentrata la mail, è finito il fax ha avuto un ciclo di vita rispetto a quasi nullo ancora satore insomma in realtà serve a poco quindi le cose oggi cambiano con una velocità supersonica si erano inventati i Pony Express apposta per soppertire a questa difficoltà della posta della consegna rapida, ma anche i Pony Express sono durati pochi anni perché poi alla fine poste si è inventato un servizio di posta celere specializzazioni possibili già ai primi tre anni geologia sempre sassi so diceva il nonno poi invece in realtà è diverso ok? quindi chiaramente oggi ci sono veramente tantissime possibilità bisogna imparare percorrere ci siamo? patrimonio personale passioni e personalità patrimonio professionale propositi e potenziale è un modo di vedere magari da degli stimoli terze due P obiettivi professionali qui barro un po' perché è professional goal in inglese tra l'altro questo è fatto per gli esami della vista inglese quindi è professional goal quindi obiettivi professionali e posizionamento quindi quali sono gli obiettivi reali che io mi prefiggo gli obiettivi reali sono espressi in termini di obiettivi specifici voglio trovare un posto di lavoro con un contratto a tempo indeterminato entro sei mesi o riesco o non riesco è un esempio sei anni possono bastare essere sicuri obiettivo specifico deve essere misurabile voglio avere 1300 euro nitti di stipendio importante è capire che l'azienda sono quasi 3000 chi te dà 3000 euro oggi? interessante questione quindi devono essere specifici misurabili accessibili riesci a far te dar 3000 euro lordi? comunque quelli 3000 euro di stipendio non vale l'ora che frega davanti a te devono essere comunque realistici e devono essere fissati nel tempo quindi non mettetevi l'obiettivo voglio trovare lavoro perché è un non obiettivo è il modo giusto per non trovarlo anzi fra l'altro quindi gli obiettivi devono essere smart specifici misurabili accessibili realistici e fissati nel tempo così comincia a diventare complicato questo però è come si gestisce un'azienda con obiettivi smart obiettivi e poi il posizionamento che viene ovviamente dal libro che citavo stamattina positioning che è il concetto guida del marketing moderno qualcuno confonde il posizionamento con il posizionamento sui motori di ricerca quindi come faccio a farmi leggere da google non c'entra nulla traduco il posizionamento quindi positioning con il motivo di preferenza il motivo per cui quindi posizionamento è il motivo per cui qualcuno vi dovrebbe dare lavoro che non è proprio facile facile però ce la fate ancora un quarto d'ora o state per crollare e mi svenite sulle sedie alle 5 facciamo pausa ok quindi l'inferno ok allora ragioniamo sul motivo di preferenza devo cambiare slide però tutto bene